continuiamo leggendo ancora alcuni passi di max smith sulle origini del fascismo il 1922 non segna una grande rivoluzione non certo in modo così evidente come i fascisti e i liberali per opposte ragioni cercavano di far intendere non è che in italia sia del tutto sparita la tradizione liberale piuttosto l'italia possedeva troppe e diverse tradizioni che a volte si annullavano reciprocamente vi erano troppe tendenze che agivano l'una contro l'altra e molte all'interno del liberalismo il risultato di tutto ciò era l'anarchia politica che i momenti critici come ad esempio il 1915 quindi l'entrata nella prima guerra mondiale e il 1922 la marcia su Roma svelava le pericolose debolezze della costituzione bisogna ricordare che il risorgimento non fu solo la storia della affrancazione nazionale dallo straniero si trattò anche di una terribile serie di guerre civili e gli sconfitti di queste guerre civili trasferirono i loro risentimenti repressi nel nuovo periodo di lotta politica dopo l'unificazione nazionale fratture e tensioni continuavano a manifestarsi tra nord e sud tra centralizzatori e regionalisti tra ricchi e poveri la caduta della destra nel 1876 fu principalmente dovuta a questa mancanza di unità fra i liberali del centro quindi avevamo già accennato al fatto che sia i governi della destra storica sia quelli della sinistra storica nella fase postunitaria fossero entrambi governi sostanzialmente di liberali ma le divisioni interne rendevano deboli spesso i governi che si succedevano nel giro di poco tempo anche se all'inizio si ebbe la continuità della destra e poi una continuità della sinistra storica e divisioni, tensioni tra diversi gruppi e diverse idee anche perché nel risorgimento non c'erano stati solo i monarchici che appunto desideravano l'unità d'Italia sotto il dominio e sotto la guida di una monarchia forte come ad esempio quella dei Savoia ma c'erano state molte altre opzioni per esempio i mazziniani, i repubblicani, i federalisti come Cattaneo e quindi il dibattito e le opposizioni all'interno dello stesso gruppo dei liberali e la molteplicità di idee e divisioni era molto grande e questo creava una disunità quantomeno svariate insubordinazioni all'autorità derivanti da secoli di dispotismo e di dominio straniero si trasformavano in disobbedienze al nuovo regime le prime proteste da cui ebbero vita le forze del primo risorgimento si levarono contro lo Stato in quanto tale contro il governo proprio perché governo e questo atteggiamento non cessò improvvisamente nel 1861 la fiacchezza del sentimento nazionale lasciò i cittadini del nuovo Stato senza un sentimento abbastanza vivo della cosa comune spesso si guardava al governo nazionale come un nemico che si poteva ingannare e a cui si poteva disobbedire impunemente e persino con una omertà che rendeva la disobbedienza una virtù ecco di nuovo Max Smith insiste su questa mancanza di coesione di sentimento nazionale e su questa visione dello Stato come nemico per portare un valido esempio basta rivolgersi a Mazzini il quale era contrario al nuovo governo come era stato contrario al vecchio e che non indicò la via dell'umile cooperazione per cercare una nuova migliore soluzione una volta che il suo stato ideale non si era potuto realizzare forse non è un fatto molto rilevante ma chiunque ricerchi le origini del fascismo troverà prima o poi che il conflitto tra monarchici e repubblicani non fu affatto estraneo alla rivoluzione del 1922 in ogni caso è interessante notare che uno dei fondamentali motivi del risorgimento divenne poi una delle ragioni di debolezza dell'Italia Unita quella di Mazzini fu solo una delle proteste che continuò anche dopo il 1861 il non-expedit ne rappresenta un'altra di ordine completamente differente Cavour giustificò la sua politica aggressiva adducendo le ingiustizie del governo papale verso i sudditi laici ma il suo governo fu veramente equo verso il Papa? Cosa significò per l'Italia l'astensione dei cattolici dalla vita politica? Si può facilmente supporre l'astensione dei cattolici chiaramente è la conseguenza delle azioni dell'Italia del nuovo governo, del nuovo regno verso lo stato della chiesa e da qui è chiaramente il non-expedit il divieto per i cattolici di partecipare alla vita politica di uno stato considerato nemico oltre al fatto che la chiesa come abbiamo visto ha appoggiato anche la cosiddetta guerra civile antiunitaria del brigantaggio nel sud una delle principali difficoltà incontrate da Cavour e dai suoi successori fu proprio la mancanza di un vero senso civico ecco, torniamo su questo punto centrale secondo a Mac Smith mancanza di un vero senso civico i cittadini non erano abituati all'autogoverno neanche nei piccoli centri i governi locali erano troppo spesso in mano a combricole nepotistiche che amministravano le terre comunali e la beneficenza secondo i propri interessi inoltre facevano in modo di essere esentati per quanto possibile dal pagare le tasse costruivano strade private a spese dello stato eccetera vi erano inoltre classi, province e singoli individui che troppo spesso cercavano profitti personali a spese della comunità e sembra che esista una stretta connessione tra tutto ciò e la crisi del governo in Italia negli anni precedenti, il 1922 questo pensiero è sorprendente vedete ciascuno inteso a ricercare il proprio particolare non si occupa, non si cura della cosa comune del bene comune quindi ricordate mancanza di un vero senso civico è un punto su cui riflettere perché dovremmo forse chiederci c'è oggi un senso civico in quanto meno ci sarà un senso civico maggiore ma abbiamo raggiunto un livello accettabile di senso civico ecco io qua mi domando quando vedo buttare oggetti per la strada su pellettili immobili spazzatura inquinante nell'ambiente quando episodio purtroppo verificatosi di recente di fronte a un'emergenza di coronavirus i cittadini di una grande città d'Italia corrono a scappare ovviamente infestando tutte le zone limitrofe e non solo anche il sud ad esempio lontano che ancora non avevano il virus ecco io mi domando esiste oggi il senso civico lo abbiamo acquisito e vi invito a riflettere su questo tema molto importante vediamo cosa dice Mac Smith continuando il fascismo difficilmente sarebbe giunto al potere se il timore e l'odio reciproco delle singole classi e delle fazioni esistenti in Italia non fossero stati più forti della loro fedeltà collettiva alla nazione gli eccessi del patriottismo italiano non erano segni di forza ma di debolezza il vero patriottismo non ha bisogno delle pose di un corradini o di un dannonzio ecco qua vi ho inserito ancora una pagina se volete finire di leggere appunto la frase però fermiamoci ancora un secondo a riflettere su quanto ci ha detto Mac Smith in sostanza quindi mancanza di senso civico divisioni ciascuno interessato al proprio interesse particolare divisioni tra i gruppi mancanza di coraggio di tutti i governi che non sono in grado di fare delle scelte necessarie ma impopolari e quindi questo porta alla confusione ai disordini perché nessuno è contento e anche alla ricerca di un uomo forte un leader che possa mettere a tacere tutti i dissensi e scegliere lui per gli altri e chiaramente questo apre la strada a un personaggio come Mussolini e dobbiamo chiederci probabilmente se la storia che pure è sempre diversa possa in qualche modo ripetersi e quindi rimanere vigili rimanere coscienti e acquisire una maggiore proprio coscienza di essere cittadini e del fatto che il proprio interesse va coltivato fino a quando non opprime e non va contro l'interesse comune su questi aspetti vi invito a riflettere ed eventualmente anche in forma scritta esprimere la vostra opinione chiaramente ricordate che dovremmo cercare di guardare al passato da un punto di vista il più oggettivo possibile anche se per il passato recente spesso non è una cosa semplice però lo storico in genere per quanto chiaramente scelga le fonti su cui basarsi e anche la linea con cui raccontare la storia che è raccontata sempre in modo diverso però in teoria dovrebbe cercare di rimanere sopra le parti super partes e così invito voi a essere oggettivi quindi un conto è quando esprimete la vostra opinione personale un conto è quando vi riferite ai fatti quindi chi di voi coltiva antipatia verso il regime fascista e le sue conseguenze chiaramente cerchi di vedere anche gli aspetti positivi di questo ventennio della storia italiana e soprattutto delle cause che hanno portato all'ascesa di Mussolini chi di voi coltiva invece simpatie eventualmente per questo periodo storico provi a soffermarsi maggiormente sugli aspetti negativi in particolare sui concetti di dittatura di repressione del dissenso di totalitarismo che poi sono concetti che purtroppo non si sono limitati soltanto alla storia d'Italia ma all'intera storia dell'Europa del Novecento un'altra e sia